Dicevo che sia Pionono che Leone XIII dopo di lui hanno difeso le glorie dell'Italia cattolica dalle calunnie che i liberal massoni spandevano ovunque avendo il monopolio del potere, della cultura, dei giornali, delle edizioni librarie. Avevano il monopolio della cultura e in quella cultura loro non facevano che disprezzare l'Italia cattolica, dire che noi eravamo schiavi perché obbedivamo al magistero del Papa, quindi schiavi. E Pionono, Santissimo Papa, Pionono e Leone XIII raccontano, ricordano agli italiani che le cose non stanno così, non stanno così per niente. Ho visto in un'altra pillola cosa Pionono con un grande spirito profetico dice che noi, per esempio, l'Italia non ha fatto conquiste coloniali, certo non le ha fatte fino a che c'era il Papa. Dopo, appena sono arrivati i liberali, i liberatori socialisti, subito si sono affrettati ad andare a ottenere gloria imperiale in Africa, ottenendo fra l'altro magri risultati, sconfitti su sconfitti, in ogni caso. Adesso voglio leggere un brano della lettera che Leone XIII invia al suo segretario di Stato, Mariano Rampolla, per ricordare agli italiani poveretti che eravamo in memory, e oggi più che mai, di che cosa è stata l'Italia cattolica nei secoli. Dice, per l'Italia la perdita, la perdita perché c'è questo attacco che la masoneria fa in tutto il mondo, ma per l'Italia la perdita della consapevolezza di chi siamo sarebbe più sensibile, sarebbe più grave che per le altre nazioni. E dice perché? Le sue maggiori glorie e grandezze, per cui tra le più colte nazioni ebbe per lungo tempo il primato, sono inseparabili, tutte queste glorie italiane, sono inseparabili dalla religione, la quale o le produsse o le ispirò o certo le favorì, le aiutò e diede ad esse incremento. Per le pubbliche libertà parlano i suoi comuni, la libertà dei comuni è difesa dalla prepotenza imperiale. Per le glorie militari parlano tante imprese memorande contro nemici dichiarati del nome cristiano, si riferisce alle imprese memorande condotte contro i musulmani, nemici dichiarati del nome cristiano. Per le scienze parlano le università che fondate, favorite, privilegiate dalla Chiesa, ne furono l'asilo e il teatro. Per le arti parlano infiniti monumenti d'ogni genere, di cui è seminata a profusione tutta l'Italia, questo basta girarla, basta girarla ovunque. Per le opere a vantaggio dei poveri, dei diseredati, degli operai parlano tante fondazioni della carità cristiana, tanti asili aperti ad ogni sorta di indigenza e di infortunio e le associazioni e corporazioni cresciute sotto legita della religione. Ecco, anche tutte queste, non solo gli ordini religiosi, ma anche tutte le opere pie, tutte soppresse dai grandi liberali.